La trasmissione è quella di Emanuele La trasmissione si intitola Art Shock, Arti Shock ed Albenga Sottotitolo, l'arte è viva e io ne ho le prove E oggi le prove sono loro due, che meraviglia Oggi puntatona romantica perché abbiamo già cominciato col botto Praticamente eravamo fuori e Filippo mi dice Ti presento il mio amore che è Angela E io ho già cominciato a essere veramente felice perché queste persone qua mi piacciono Quindi già come inizio Ma è tanto casato insieme ragazzi? Siamo tre anni insieme Sembra 120 che è stato insieme, siete affiatatissimi Succederà anche quello 120 120 Diamo una deroga, come me e Ilario che dobbiamo campare 300 anni perché abbiamo tanti di quei progetti La vita è infinita Sì sì, non ci basta, l'infinito è oltre Oh no, alegría Ma siete oltre che una coppia vera, siete anche che cantate insieme Esatto E quindi io che cosa sto a parlare e a fare? Dai, attacca banda Ok, possiamo iniziare Facciamo una bella canzone di Adriano Celentano L'emozione non ha voce Vai tranquilla, bambola Io non so parlare d'amore L'emozione non ha voce E mi manca un po' il respiro Se ci sei c'è troppa luce La mia anima si spande Come musica d'estate Con la voglia, sai, dipende E si accende con i baci tuoi Io con te sarò sincero Resterò quel che sono Disonesto ma lo giuro Ma se tradisci non perdono Ti sarò per sempre amico Pur geloso come sai Io lo so mi contraddico Ma preziosa sei tu per me Fra le mie braccia dormirai Serenamente Ed è importante questo sai Per sentirci pienamente noi Un'altra vita che io non conosco La mia amore La mia amore tu sarai Fino a quando so che lo vorrai Fino a quando so che lo vorrai Due caratteri diversi Prendo un fuoco facilmente Prendo un fuoco facilmente Ma divisi siamo persi E ci sentiamo quasi niente Siamo due legati dentro Da un'altra vita che io non conosco Da un amore che non sai Ma non da convinzione Che nessuno ci dividerà Tra le mie braccia Tra le mie braccia dormirai Serenamente Ed è importante questo sai Per sentirci pienamente noi Pienamente noi Ma sentite un po' A me è successo di conoscerti una mattina Nella domenica mattina Noiosissima Ho vattata Ad Albenga Tutti che dormono Io sento una voce bellissima Grazie Eravamo al Baramster Da me Io stavo per entrare al lavoro Quindi ci avevo anche un po' I miei dieci minuti Le cili biricoccole E invece Mentre facevamo colazione Tadam Però lei non c'era Perché eri tu da solo Il mio amore Ha sempre da fare in casa La metti sotto La fai sempre lavorare Però ogni tanto vieni Lui canta e te strusci Ecco Hai compito come funziona Quindi Ragazzi Se passate dal Benga Baramsterdom Che è quello in via Patrioti Esatto Oppure nel centro storico Da Gabriele L'amico che fa 33 gold Ma devo dirle queste cose Perché è importante Perché bisogna incontrarli Questi ragazzi Perché è una meraviglia qua Grazie E senti un po' Ci abbiamo un minuto Un minuto ancora da dire Per gli amici che ti guardano Che magari hanno un sogno nel cassetto Che vogliono suonare Che magari non si osano Non lo so Ha un po' di perdona E vedrò di portarli anche essi loro qui E così E così sarà più bello E trovarsi una donna che ti ama Che dormirà fra i tuoi braccia Serenamente Vieni amore Oh che vai Ma questo è saluto ragazzi Ciao Dart Shock Facciamo delle altre puntate Non perdeteli Ciao Grazie Ciao 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 Grazie.